Se tu ti sbatti, ti impegni e crei un libro che risolve un problema e lo fai scrivere bene da CiaGPT, poi lo metti su Amazon, Amazon te lo vende, se hai fatto bene la descrizione, se hai fatto bene tutto, come ho spiegato in altri video, ho fatto vedere sempre la playlist, poi otteni delle rendite passivamente. Il libro che io ho scritto ha superato i 90 euro di introiti, è scritto H, si può dire, a cazzo, riceve anche recensioni positive, cioè secondo me CiaGPT scrive meglio di dei pakistani o bangladescini, non so come si dice che tu trovi su Fiverr, io prima facevo quando facevo più assiduamente il Kindle Publishing, pagavo 200 euro per libri e scritti da persone che neanche conosco, e poi c'è la gente che si indigna perché, oh l'ho scritto CiaGPT chissà, amico mio ti fermo subito, CiaGPT scrive meglio di qualsiasi secondo me, del 99% delle persone, è un'intelligenza artificiale ragazzi, ok? Quelli che dicono no, non si può, ti plagio, è un'intelligenza artificiale, abbiamo creato la macchina, noi abbiamo le gambe e camminiamo, a un certo punto volevamo andare più veloci, come ci spostiamo? Abbiamo creato il motore, la ruota, avete presente? E cammini, ok? Ora abbiamo creato, perché comunque ci vuole tempo l'evoluzione, l'uomo ha creato anche un cervello per andare più veloce mentalmente, quello CiaGPT, è un cervello, è come se tu hai una persona e gli dici fammi questo, questo, uno schiavo, però almeno non è una persona, è uno schiavo digitale, è un software, spero che il microfono perché è la terza volta, ok sì, tanto mi viene, è un software di intelligenza artificiale, che è al tuo servizio, ed è gratuito, io non lo so se veramente è il caso di ancora lamentarsi, perché queste, io leggo veramente in giro, apro una parentesi, i giovani non trovano lavoro, il mondo è uno schifo, ho visto un post l'altra volta di Endicron, avete presente? Chi diceva che i guru che dicono che se sei povero è colpa tua, hai sbagliato la gente? Oh! Oppure quelli che dicono, oh, Gallimberti dice che la loro generazione era più fortunata perché vedevano futuro, noi giovani o quelli più giovani non vedono futuro. Che cazzo stai dicendo? Ma mio padre non ce l'aveva ChatGPT, mio padre non ce l'aveva Facebook, ma io ho quel business lì che mi vada solo, perché quando è uscito Facebook, i lead costavano 10 centesimi, ok? Io ho una lista di 20.000 email che mi sono costruito con pochi euro, dove eravate quando costavano 10 centesimi? Stavate cercando lavoro? È normale che adesso siete poveri, scusate se mi infervoro, però quelle opportunità, forse la gente non si rende conto perché si aspetta. Però chiunque in questi anni ha avuto una mentalità imprenditoriale, non da pecorone, da dipendente, ha prosperato. Mi dispiace, ma voi ancora sognate, vabbè, chiusa parentesi, cioè secondo me, ovviamente poi è arrivata tanta gente, adesso la pubblicità costa tanto, però non ci siamo fermati, adesso c'è ChatGPT completamente gratis. Io l'ho detto in altri video, ha fatto molto di più Canva, Canva.com ha creato molti più posti di lavoro di qualsiasi manovra del governo. Vabbè, chiusa parentesi, scusatemi, non mettiamo la politica in mezzo, sono solo una persona estasiata dalle opportunità di questi anni e se tu non le vedi non mi seguire, io le vedo e ci lucro, se tu non le vedi segui qualcun altro, guarda la televisione, è pericolosissimo. Io ti dico spegni la televisione perché lì il vero scam.